Sì, scusate, spettamente. Dopo. Come siete? Come rimacchiese? Come si fa? Come si fa? Come rimacchiese? Grazie. Grazie, un po' di spazio. Già hanno fatto il spazio. Non fa la tazza, ma... Attenzione, per favore. Ma dobbiamo aspettare... Giovanni, dove è? Dov'è il sì? Dobbiamo aspettare. No, no, no. No, 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 è il fatto che abbiamo anticipato i tuoi ruoli. Ragazzi aspettate un attimo, facciamo passare la stampa, facciamo passare la stampa. No, no, non far passare la stampa. No, no, non far passare la stampa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ok dai dai ragazze attenzione cammina attenzione 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 Oh, oh, questo è il colpo. Maria, spazzati. Per favore, fate passare, per favore. Grazie, ragazzi.